È una storia di droga, ma come protagonisti un galeone, un modellino, quello per il gioco, è un pusher di 22 anni che poi è stato arrestato, è una grande quantitativa di hashish. Il fatto è avvenuto non a caso a Lampedusa e la connessione con il galeone è semplice. I carabinieri hanno sorpreso mentre si aggirava nella piazza di Lampedusa un giovane con fare sospetto. Addosso aveva 11 piccoli involucri di hashish. A casa all'interno di un modellino di galeone costruito con piccoli mattoncini colorati di plastica, nella piccola stiva c'era un altro involucro più grande e 10 piccoli pacchetti con hashish. E tra i telecomandi della tv sono saltati fuori anche 600 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione, un coltello ancora intriso di piccole quantità di sostanza resinosa. Tutto è stato immediatamente sequestrato, la droga del valore al dettaglio di circa 1000 euro è stata inviata ai laboratori dei RIS di Messina.